Più che una strada, una mulattiera che in certi tratti potrebbe essere impegnativa a percorrersi anche per muli e bestie da somma varie, è quella di via San Giovanni in Golfo nell'omonima contrada di Campobasso. A denunciarne lo stato di abbandono alcuni residenti dell'area, lì vivono una ventina di famiglie in tutto. Da anni lamentano la precarietà del manto stradale con l'asfalto corroso dal passaggio dei mezzi e dalle intemperie che in mancanza di interventi di manutenzione crea pericolose buche. I danni alle auto sono tutt'altro che insoliti, per di più la vegetazione incolta in alcuni punti ha invaso la sede stradale, limitando la visibilità agli automobilisti in transito. Eppure quella strada che conduce nella vicina contrada di Camposarcone garantisce soprattutto il collegamento con Campodipietra ed altri comuni limitrofi dell'area. Certo le risorse disponibili a Palazzo San Giorgio sono limitate, tuttavia l'assenza di interventi di manutenzione da parte dell'amministrazione civica spinge i residenti esasperati a denunciare questa criticità che di anno in anno peggiora sempre di più. Questa strada diciamo che è percorribile ma fino a un certo punto perché andando poi sopra dal ponticello andare su, bisogna andarci col trattore perché non è possibile andare con la macchina. Buchi, vortici che non vi dico, poi tutto abbandonato, alberi che coprono, che stanno in mezzo alla strada. E cioè voglio dire, Campobasso non è solo il centro, è anche la periferia. Il problema è che è stretta la strada, quindi abbiamo problemi appunto proprio di viabilità, però poi la manutenzione non se ne fa. Noi quello che riusciamo a fare noi proprietari vicino, facciamo qualcosina così ma ci vogliono delle macchine per tagliare su, per fare appunto le cunette, per liberarle, insomma ci vorrebbe un po' di... E in più una cosa che veramente ci vorrebbe è mettere qualche lampione perché qui è proprio buio, buio pesto. Quest'anno di neve non ne ha fatta e la brillante idea dell'assessore Nonzo Chisari che gestisce la Sea ha mandato il mezzo spartineve con tanto di neve. Quel poco di asfalto a freddo che era nelle buche sarà tutto portato, stanno tutti a vallo, sta tutto a vallo. Il sindaco ci ha incontrato all'inizio di luglio. L'unica cosa che ha detto è che lui non ha soldi. Come di Campobasso, cioè, sono venuti a tagliare gli alberi qua, hanno fatto un macello, un macello, alberi sradicati, rotti, tagliati male, buttati in mezzo alla strada, cioè voglio dire una cosa inconcepibile. Adesso abbiamo il pericolo che se ci incontriamo due macchine lì dove la strada è più stretta c'è qualcuno che è andato a finire nella cunetta con tutte e due le ruote. Abbiamo fatto, io personalmente, parecchie segnalazioni al comune di Campobasso, diciamo al sindaco, a tutti. L'unica persona che mi ha ricevuto è stata l'assessore Amoroso diciamo quasi un annetto fa. Mi ha ascoltato e tutto ha detto avete ragione ma non ci sono soldi, io non ti posso fare niente.